Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Verdi. Il piatto che cucineremo oggi è pollo alla cacciatora. Vediamo come si prepara. Ci occorrono pollo, pomodori pelati, burro, olio e aglio. Il procedimento per cuocere questo pollo alla cacciatora è molto lungo ma allo stesso tempo veramente molto semplice. Andiamo a mettere in una padella il nostro quantitativo minimo di burro assieme a dell'olio. Una volta che il burro si sarà sciolto andremo ad unirvi i due spicchi d'aglio. Queste sono l'equivalente di due scatolette di pomodori pelati mutti. Le andremo a versare in una bowl e andremo con le mani a spaccare i pomodori pelati. Andiamo ora a versare i pelati nella padella. Perché i pelati mutti? Dei pelati mutti parla proprio Ricordi in una lettera a Verdi. Sappiamo che Verdi mandava diverse derrate alimentari della bassa a Ricordi e Ricordi in una lettera scrive proprio della bontà di questi nuovi pomodori pelati di questa fabbrica che nasceva a Parma della passata. Quindi direi che per le ricette verdiane dobbiamo affidarci a quello che era il prodotto più vicino al consumo di Verdi. Andiamo a salare i pomodori e poi andremo ad unirvi il pollo. Lo lasceremo cuocere con il coperchio per almeno un'ora e mezza. Ecco qua il pollo ha cotto per più di un'ora e mezza e quindi lo possiamo impiattare. Buon appetito a tutti con l'ennesima ricetta verdiana e alla prossima!